da reggio in calabria 15 aprile 1806 per poco che vi ricordiate signora del più devoto dei vostri servi non vi rincrescerà immagino sapere che io sono vivo a reggio in calabria in fondo all'italia mai tanto lontano da parigi e da voi dopo sei mesi che ci avrei molte cose da scrivervi ma mi mancano il tempo e la tranquillità noi trionfiamo correndo e se ci siamo fermati qui è perché la terra c'è mancata ecco direi un regno conquistato con molta rapidità e voi dovreste essere fiera di noi ma io non sono contento io no l'italia per me non ha senso se non vi aggiungo la sicilia dico così per sostenere il mio tono di conquistatore in realtà detto tra noi non mi interessa eccessivamente che la sicilia paghi le sue tasse a giuseppe o a ferdinando su questo punto sarei anche disposto a transigere purché mi fosse concesso di visitare il paese a mio agio ma essere arrivati tanto vicino e non potervi mettere piede non vi sembra una cattiveria da dove siamo infatti la sicilia si vede come dalla tuilerie potete vedere fauborgue saint germain il canale non è certo più largo eppure non si sa come passarlo lo credereste se non mancasse che il vento saremmo anche disposti come fece agamennone a sacrificare una figlia ma grazie a dio il vento c'è sono le barche che mancano e questo è il guaio le avremmo dicono e sinché avrò una tale speranza non rimpiangerò mai credetelo i luoghi dove vivete anche se li amo molto voglio vedere la patria di proserpina e capire perché il diavolo si è deciso a prendere moglie proprio in contesto paese tra siracusa e parigi non ho esitazioni per sciocco che sia preferisco a retusa alla fontana degli innocenti questo regno che abbiamo conquistato non è affatto da buttare via e vogliate crederlo la più graziosa conquista che si possa fare andando a passeggio ammiro la gentilezza di chi lo lascia se avessero voluto difenderlo lo avremmo lasciato stare tranquillamente non eravamo venuti per far violenza ad alcuno ecco un comandante di gaeta che non vuol darci la sua fortezza ebbene se la tenga se fosse accaduto lo stesso per capua saremmo ancora alle porte senza pane e senza cannoni bisogna convenire che in questo periodo l'europa ci tratta con estrema gentilezza il mestiere conquistatore ha bisogno da si fatti incoraggiamenti in caso opposto saremmo costretti a rinunciarvi comunque noi siamo qui in fondo allo stivale nel più bel paese del mondo e abbastanza tranquilli se non ci fossero la febbre e le insurrezioni il popolo è impertinente questi cialtroni di contadini vorrebbero contrastare i vincitori dell'intera europa quando riescono a prenderci ci bruciano nel modo più grazioso possibile ma non ha importanza peggio per chi si lascia prendere ognuno pensa soltanto a cavarsela con il suo carro pieno e i suoi muli carichi e di tutto il resto non si dà molta pena quanto alla bellezza della regione almeno per me le città non hanno nulla di notevole ma la campagna questa sì che è difficile descrivere a non voler parlare degli aranceti e delle spalliere di limoni che sono tante le specie di alberi e di piante esotiche che la fecondità della terra fa crescere numerose le stesse piante che abbiamo da noi qui più grandi e sviluppate conferiscono al paesaggio una fisionomia affatto singolare nel vedere queste rocce tutte coperte di mirto e di aloe queste palme sparse nelle valli potreste anche credervi sulle sponte del gange o del nilo mancano però le piramidi e gli elefanti vi sono i bufali a sostituirli che del resto sono perfettamente intonati alla vegetazione africana e alla carnagione degli indigeni così diversa dalla nostra appena fuori delle città non esistono più abitanti le campagne sono deserte e siamo costretti a immaginarsi soltanto il loro aspetto quando i lavori e l'allegria dei coltivatori rendevano vivo il paesaggio attuale volete invece conoscere signora quanto accade oggi figuratevi sul declivo di qualche collina lungo queste rocce tra la vegetazione di cui vi ho detto un centinaio di nostri soldati in formazione sparsa si cammina senza meta e non ci si preoccupa di nulla e a che scopo mostrarsi i guardinghi e prendere precauzioni da più di una settimana in questa provincia non vi erano stati i soliti massacri di soldati ai piedi della collina scorre un torrente impetuoso che è necessario guadare per salire sul versante opposto parte del manipolo è già entrata in acqua gli altri sono su esponde improvvisamente dai punti più diversi sbucano i contadini qualche migliaio uniti a disertori banditi ed evasi dalle galere ben armati buoni tiratori e tutti al comando di un sud diacono sparano prima ancora che li si possa vedere gli ufficiali sono i primi a cadere si è già fortunati quando si è uccisi subito gli altri li tengono in vita per qualche giorno trastullo ai loro carnefici allora il generale colonnello o ufficiale non importa di che grado che ha fatto partire il manipolo senza prendere le necessarie precauzioni senza neanche sapere nella maggior parte dei casi se i passaggi fossero liberi venuto a conoscenza del massacro si vendica con i villaggi più vicini basta un aiutante di campo con 500 uomini saccheggi stupri assassini quelli che sfuggono vanno a ingrossare la banda del sud diacono mi chiederete signora come passi il suo tempo di che si occupi questo comandante nei suoi quartieri se è giovane si dà da fare con le donne se è vecchio a mucchia danaro spesso tutte e due le cose insieme la guerra non si fa peraltro ma giovane o vecchio presto lo coglie la malaria bastano tre giorni a farlo crepare tra le sue donne e il suo danaro qualcuno ne gode nessuno si scompone e dopo un poco tutti lo dimenticano e chi succede si affretta a fare lo stesso dove siete voi signora neanche ci si preoccupa se noi qui ci massacriamo avete ben altre faccende alle quali pensare il corso del danaro e rialzi e ribassi i fallimenti la buiotte in fede mia la vostra parigi è un altro covo di banditi e non potete dire di stare meglio di noi quindi